bella raga come state amici finalmente sto portando katia a fare un bel pranzetto romantico perché ormai io l'ho promesso da troppi mesi che lo sto promettendo lavoriamo sempre siamo sempre impegnati perché ho organizzato qualcosa di più bello e molto più romantico no non sei contenta ma dai come un giardino ma scusa mi sono fatto tutta bella per stare in giardino dai non fare così ma cosa eh si è un pranzetto organizzato organizzato una cosa vegetariana katy attenzione grazie per la dieta eh si almeno poi si però è un giardino da noi eh certo ma scusa tanto pareva che stavo un pantaloncini e pigiama ma no sei bellissima sei bellissima ma non solo ho preparato anche un sacco di sorprese per casa è qua signore e signore signorina e signore oh grazie mille prego andiamo la corsa si certo che cos'è sta roba grazie mille grazie mille ma che cos'è sta roba non so esattamente che cos'è credo che sia una vellutata vegetariana il raccolto del giorno il raccolto del giorno il raccolto del giorno il raccolto del giorno signorina non cincischi mangi mangi signorina non cincischi vadi vadi buon appetito dai no ma come buon appetito che cosa dici stai scherzandovi mamma mamma Luca ma che cavolo dici nooo stupido oh piccolino Ma è buono? Buonissimo Ma io intendo da mangiare